Oggi, lunedì 1 aprile, il palinsesto di Canale 5 subirà una modifica e quindi uomini e donne non sarà trasmesso. Ma per quale motivo? Iniziamo la settimana con una notizia che nessuno mai si sarebbe aspettato. Infatti, oggi tutti i programmi condotti da Maria De Filippi andranno a prendersi un giorno di pausa e quindi non verrà trasmesso né amici né tantomeno uomini e donne. Ma cosa troveremo al loro posto? Il primo giorno del quarto mese dell'anno si aprirà quindi in maniera inusuale per Canale 5 il quale non manderà in onda la solita programmazione che slitterà di un giorno. Quindi, per quale motivo non potremo assistere all'ennesima puntata di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme! Per quale motivo Uomini e Donne non va in onda oggi 1 aprile? Coloro che non vedono l'ora di scoprire come andranno le cose nel dating show più conosciuto di Canale 5, Uomini e Donne, dovranno attendere fino a martedì 2 aprile. Infatti, dopo che è stata mandata in onda la scelta di Brando e il rifiuto ricevuto da Daniele da parte di Beatriz, sembra che il dating show abbia intenzione di prendersi un giorno di pausa. Infatti, l'appuntamento di oggi primo aprile non verrà mandato in onda. Ma per quale motivo? Come da calendario, sappiamo che oggi è il giorno di Pasquetta. E quindi un giorno festivo. Proprio come accade ogni qualvolta che vi è un giorno rosso, il dating si prende una pausa. E quindi, dovremmo attendere fino a domani martedì 2 aprile alle ore 14.45 per scoprire quali altri colpi di scena ci riserverà il programma condotto da Maria De Filippi. Ma non è soltanto Uomini e Donne a subire modifiche bensì anche amici. Infatti, i commenti di Nicolà e Giovanni, i quali sono stati eliminati sabato 30 marzo, non saranno trasmessi il primo aprile ma soltanto martedì 2 aprile. E quindi, detto ciò, cosa andrà in onda al posto di questi due format? Sappiamo che al posto di Uomini e Donne, su Canale 5 troveremo un pomeriggio tutto dedicato alla sop la promessa in quanto verranno mandati in onda l'episodio numero 140 e il numero 141 appartenenti alla prima stagione. Anche in prima serata su Canale 5 troveremo un momento dedicato alle soppi in quanto verrà trasmessa Terra Amara. Cancellato dal palinsesto di oggi anche pomeriggio 5 in quanto alle 16.58 è in programmazione il film Adeline nel 2022.